Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale! Tra poco è Pasqua a Playmobil City, ma sembra che a casa di Maria nessuno se ne stia preoccupando. Che dite? Aiutiamoli a decorare la loro casa creando delle decorazioni! Per il primo lavoro ci serviranno forbici, spago, matita e gomma, un foglio di carta bianco, scotch e penarelli colorati. Iniziamo con l'andare a disegnare tanti piccoli ovali della stessa misura sul foglio bianco. Poi con i penarelli colorati li andiamo a decorare. Una volta finiti di decorare, li andiamo a ritagliare. Adesso tagliamo un pezzo di spago nella lunghezza del posto in cui la vogliamo mettere. E per finire, con lo scotch, ci attacchiamo le uova di carta che abbiamo realizzato prima. Ecco qua! Non ci resta altro che metterlo in una delle stanze della casa di Maria. Luca, quel festone da dove sbuca? Boh, però è bello! Per il secondo lavoro ci servirà... No. Pasta modellabile, pittura acrilica, un pennello a punta sottile. Anche se questo non ha la punta sottile, ma pazienza. Stuzzicadenti, ancora la matita e la gomma, una spugna che non utilizza mai nessuno, o semplicemente una spugna, cartoncino verde e un po' di erba finta. Per prima cosa, prendiamo la pasta modellabile e iniziamo a fare tanti piccoli cerchi. Poi mettiamo le palline su degli stuzzicadenti. Poi prendiamo la pittura acrilica e iniziamo a decorare col pennello le palline. Facciamo lo stesso con tutte le altre. Per evitare che le uova si rovinino mentre la vernice asciuga, mettiamo lo stuzzicadenti sulla spugna. Bene! E mentre aspettiamo che la vernice si asciughi, prendiamo il cartoncino verde e disegniamo le quattro parti di un cestino. Disegnandoli in questo modo sembrerà che il contenitore delle uova sia un nido. Le andiamo a ritagliare e le incolliamo tra loro. E mettiamo l'erba finta. Infine ci mettiamo le uova che abbiamo realizzato prima. Ecco fatto! Abbiamo creato un centrotavola in tema Pasqua. Oh che carino! Dove l'avete preso? Non lo so, l'ha comprato Gian Marco. Andiamo ragazzi! Chi è che a Pasqua non ha mai ricevuto un uovo? Per questo lavoro ci serviranno Carta regalo del colore che volete Nastri, anche questi potete deciderli voi E la pasta modellabile, qui il colore non ha importanza Prendiamo la pasta modellabile e iniziamo a formare un ovale Prendiamo la carta regalo e ci avvolgiamo il nostro uovo E fermiamo la carta con un nastro E non dimentichiamo la marca del cioccolato Ecco qua! Facciamone anche un altro Voila! Adesso Maria e Luca avranno Tutti e due le uova di Pasqua Bene ragazzi, qui il nostro tutorial è finito Speriamo che il video vi sia piaciuto Se è così mettete un mi piace E per non perdervi nessun'altra delle nostre puntate Iscrivetevi al canale Ciao!